Ciao a tutti, per il momento sarò io il presidente e il capogruppo del Movimento 5 Stelle Lombardia. Ci aspettano mesi intensi, mesi di grande lavoro, possiamo fare un grande lavoro capillare sul territorio dando ascolto alle istanze di tutti i territori. Passiamo da 5 anni fa in cui siamo entrati in 9 consiglieri regionali, tra cui anche il sottoscritto, ad oggi in cui siamo entrati in 13 consiglieri regionali. Quindi possiamo lavorare molto di più sul territorio e molto più facendo gruppo e facendo squadra perché siamo anche di più. Una delle mie prime priorità sarà quella di traghettare i miei compagni di avventura rispetto all'esperienza che ho fatto in questi anni e trasmettere a loro l'esperienza, i segreti, le cose che ho imparato in questi anni per ottimizzare al meglio il lavoro e per essere subito pronti a partire al meglio. Abbiamo tante cose su cui lavorare, dalla sanità, dalle infrastrutture, dall'ambiente e dalle case popolari. Siamo pronti e lo faremo e non vi deluderemo.